io sono venuta a chiesa e a dorado no, 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 no io sono venuta a chiesa ma io sono venuta il dorado era un po' passato era passato ma lei dice, si è l'amica di mia moglie mia moglie, è un'amica no, è un italiano è un italiano ma lei è un italiano però parla bene, è figlio di italiano non è un italiano puoi parlare di italiano ma tu sei un italiano ma tu sei un italiano non vado, non vado ma hai cammaggio ma hai cammaggio, hai cammaggio ma hai cammaggio, hai cammaggio ma hai cammaggio ma sai l'inglese ti dà da un italiano quando lui è venuta ma quelli vuoti non savi cosa è che è no, 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 no lebra hai, hai 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 Grazie a tutti 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 Ciao Bye Bye